Mancano ormai poche ore. Domani è 5 gennaio, una data memorabile come ogni anno, quella che dà il via ai saldi invernali. Gli appassionati lo sanno bene, dopo il Black Friday e il Cyber Monday è la volta dell'appuntamento più tradizionale con i ribassi nei negozi. I periodi di saldi sono sempre molto attesi perché permettono di acquistare prodotti a un prezzo più basso e quindi più accessibile. Gli affari, fino all'ultimo respiro però, non prenderanno il via ovunque nella stessa giornata. In Basilicata la Corsa ha già preso il via il 2 gennaio, il 3 in Valle d'Aosta, mentre per la Sicilia si dovrà attendere il giorno dell'Epifania. Tutte le altre regioni italiane domani 5 gennaio, anche nella nostra provincia. Ma come ogni cosa è sempre bene tenere a mente qualche accorgimento per non sbagliare acquisto. C'è chi riesce a portarsi a casa ottima merce a prezzi molto convenienti, ma la truffa è sempre dietro l'angolo. La prima cosa da tenere d'occhio è il cartellino. Deve essere indicato in modo chiaro il prezzo precedente, in modo che il consumatore possa rendersi conto dell'effettivo sconto applicato. Per essere sicuri al 100% meglio fare un giro per negozi prima dei saldi e prendere nota dei prezzi. Sospettate sempre degli sconti esagerati. Se si va oltre il 50% ci sono buone possibilità che sia stato ritoccato il prezzo presaldo o che si tratti di fondi di magazzino. Poi l'acquisto con carta di credito o bancomat deve essere garantito come sempre e senza sovrapprezzi. Per quanto riguarda invece i cambi, la possibilità di cambiare il capo dopo che lo sia acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme.